e oggi faremo il provino per il team allora ti dico già che sto lagando comunque 3 sta lagando tutto perfetto è è è è giocando un po si sa comunque levate il danno 3,2,1 no l'ai nooo non mi ha sbucciato 2-0 quanto si arriva? a 5 3 2 1 vai no ma dove andare oh shit ooo che mi abuso io do di to' sbappo io do di to' sbappo dai tu hai stai mi sbappo te do' sbappo la cosa sui e oh oh io vuole sbappo sbappo no 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 ho l'aggo Oh 3-1 Sei in gara 3-2-1 3-2-1 3-2 3-2 4-2 4-3 4-3 4-3 5-3 4-3 4-3 5-3 5-3 5-4 ah è tu e tu no raga vai dire raga no non ci fai non mi lascio perai non vado a dire non è vero non è vero non è vero a e abrami ora sto mora tre ore stai 2 2 dai la garza ancora in gara cambia un po se nel mio preferito non andare bene ma binda anche non so di sapere il rapino dai che culo ti sei buggato dentro mi dice per serio ragazza mi scuse 3,2,1 vai dai ma a me ti fa anche il personaggio a me ti fa abile non dire queste cose nel video taglia ok si sia taglia alla ahah ahah ok qui afflicti devo far vedere un po' di... un po' di... oh! oddio uuuu vai vai eeeh 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 io ho alto ma poi la fai con 60 cos'ho? hai mai mai fuori sto vedendo un po' come te la cavi con la mira oh coda che schifo ci può cagare di mira oh ho sbagliato i bibi non sono male però di mira non so vuota dove sei? ah aspetta ti prendo volo no vuoi vedere anche come vi lo so ah e tu il campo devi decidere dove... gli iscritti se entri ah? ma non decido io poi decidere gli iscritti se devi entrare allora dove stai? signore tu puoi uscire ragazzi che puoi scendere ragazzi mettete like se volete che entri il team oh oh a dove? a dove? ti ho detto che giocavo serio va bene dai fin qua ci siamo allora un attimo tutto vieni dove sto io come l'hug come l'hug ragazzi oh ecco ok allora devi fare questo che ho fatto io così guarda ecco qua il limite sbagliato aspetta ah avevo capito vediamo quanti ne riesce a fare almeno 10 ne devi fare in 10 tanti ti voglio vedere quanti ne fai ok? aspetta un attimo e adesso devo aspetta 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 un attimo vai 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 aspetta aspetta ok che faccio così aspetta caldo che non mi edita guarda allora basta basta 2 primi edito facciamo adesso così guarda ah così piacendo 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 vabbè 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 si edito oggi ho appunto sotto un po' togliendo non ci siamo basta no no ma adesso fammi vediamo un po' in quanto tempo arrivi al limite no aspetta ok almeno 3 partiamo e vediamo in 90 chi le va più veloce 1 2 6 ok ok vieni qua tu vatti da qui e io poi sto qua 3 2 1 vai che mi costruisci sopra tanto ora finalmente gioco ho detto che devi passare ok vabbè 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 tendi giù tu l'hai detto che faccio cosa eh adesso vediamo un po' nella mira senza costruire come te la cavi è un po male tenta la stile vai da lontano la caccia e non ce l'ho aspetta questo allora non mi sento secondo me potrebbe entrare ma non è che voglio prendere i player secondo me può allenarsi chissà io devo fare entrare adesso dove sta il caccio? aspetta ma te lo vedo ecco qua aspetta eh appesi tieni 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 poi s'apositandolo ecco qua ecco qua allora aspetta aspetta guarda che lui mi edita guarda che lui mi edita guarda che c'era che è blu vai quando vuoi senza billoni senza billoni senza billoni senza billoni senza billoni oh bocca c'è come lì eh la mira è sull'edit e poi cominciamo dai aspetta non è un controllo avvicinato eh va bene non è deve essere un controllo avvicinato deve stare lontano io dove non stare lontani io vissi stavo bene male male ancora ok buona lontano aussi le non deve essere incontro avvicinato non deve essere incontro avvicinato noi vanno ancora venire di parlare allora adesso possiamo fare un po col vediamo un po come si capisce, mette la capi eeeh, spero che il pupa allora, vai è già qua l'ultima sfida eh ah ci vediamo a fare una coppia no no, anche con la erme no no, poi andiamo a fare coppia, vediamo va build up? si si buona volo buona andiamo a fare coppia vai, abbandona andiamo al lago vabbè pesanti eh facciamo coppie, coppie oppure tutti i suicidi facciamo coppie, coppie, voglio vedere tu come te la giochi non mi interessa di fare il killer voglio vedere come te la giochi ma te lo puoi cambiare il nome? eeeh 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 come? poi adesso la prende, dopo ti dico come si fa eeeh e lo so come si fa però non si fa a me è gratis ci avvo già un'arma e to eeeh non ho un'arma non è forza una battuta nooo, dove cazzo stai? nooo, dove cazzo stai? nooo, dove cazzo stai? nooo, dove cazzo stai? si, angelo no ok? angelo saluella ok